MSI vuole cambiare il mondo delle RAM, Asus si è fatta sfuggire troppi dati su Rogali X e AMD ha una chicca per voi pro gamer e amanti del competitivo. Queste e altre news nel nuovo episodio di Morden News. Vi ricordo ragazzi che questa serie di video è sponsorizzata dal nostro stesso sito mordentech.it dove ogni giorno trovate un nuovo articolo, news, guide, recensioni e tanto altro per rimanere aggiornati al 100% sul mondo del PC gaming. Il link ovviamente è giù in descrizione assieme a tutte le news se volete approfondire. Sono molto orgoglioso del mio sito quindi se volete supportarci una visita al giorno fa sempre bene. Grazie e spero che vi piaccia tutto. Partiamo da una notizia abbastanza succulenta per chi si è interessato al mondo delle handheld. Infatti è uscito un nuovo aggiornamento BIOS per MSI Claw, la mini console PC portatile di casa MSI e per quanto riguarda questo aggiornamento si prospettano miglioramenti in termini prestazionali fino al 30% nel migliore dei casi. Ovviamente non in tutti c'è anche un 10 o 20% però in generale niente male per un aggiornamento anche se probabilmente era che prima non funzionava poi così bene tutto l'ecosistema. Allora come potete vedere grazie al nuovo BIOS ci sono dei miglioramenti anche significativi in termini di esperienza. Banalmente passare da 58 a 67 fps su FC224 ci fa avere un'esperienza migliore ma anche altri giochi prendono comunque dosi consistenti di FPS. In generale miglioramenti che potete vedere sono per lo più 5, 10, 15% e quindi molto bene. Fanno anche un piccolo paragone dicendo che hanno una performance media del 26% meglio rispetto a Rogue Alley. Qua ci sono proprio dati alla mano. Ovviamente questi sono test di prima parte cioè fatti da MSI ma come potete vedere insomma grazie a questi due picchi abbastanza ingenti riescono a compensare questi abissi qui invece. In generale sembrerebbe che MSI abbia fatto un po' i compiti a casa e siano riusciti a recuperare un po' di terreno. Tuttavia sappiamo che il lancio di questo PC portatile non ha avuto proprio la migliore delle accoglienze. Vedremo in futuro cosa faranno, magari una nuova versione con OLED, migliore prestazioni per quanto riguarda i processori mobile d'Intel ma per adesso probabilmente sappiamo tutti bene che Steam Deck OLED e Rogue Alley hanno ancora tanto da dire. Se siete un po' dei veterani del PC gaming probabilmente vi ricorderete quando Gskill ha lanciato per la prima volta le proprie RAM Royale che sono probabilmente tra le RAM più tamarre mai viste nella storia e contemporaneamente le più impreziosite. Sono le loro top di gamma proprio adatte a chiunque voglia il massimo in termini di estetica e ovviamente anche di prestazioni. L'azienda ora sta rilasciando la nuova versione Z5 dedicata al mondo delle DDR5. La capacità massima sarà di 96 giga divise in due banchi da 48 perché sappiamo che le DDR5 sui quattro banchi hanno qualche difficoltà con una frequenza massima garantita di 8400 MHz sulle migliori piattaforme. Sono assolutamente super 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 tamarre come RAM esattamente come i predecessori però in certi contesti possono essere una bella scelta estetica. Staremo a vedere i prezzi soprattutto per il mercato italiano dove Gskill arriva un pochettino col singhiozzo. Sempre parlando del contesto delle RAM siete pronti alla prossima rivoluzione di mercato che cambierà completamente il modo in cui le concepiamo. Sto parlando della collaborazione nata tra MSI e Kingston che per prime hanno annunciato quello che potrebbe essere il futuro in termini di sviluppo proprio anche strutturale nel mondo delle RAM. Quelle che state vedendo sono le CAMM2 che starò molto attento a dire così e non come unica parola perché suonerebbe male. Comunque sono un nuovo formato di RAM che predilige lo stacking verticale al posto del classico stacking orizzontale a cui siamo abituati. Fondamentalmente un qualcosa di molto simile alle DIM e SODIMM che vediamo nei laptop. Ora, questo formato è stato ufficialmente certificato dalla JEDEC che si occupa di radunare tutti gli standard relativi alle memorie RAM e dovrebbero tecnicamente vedere la luce più o meno nei dintorni delle DDR6 ora. Ovviamente non è detto che prendano piede completamente perché soltanto MSI e Kingston non sono sufficienti a rivoluzionare un intero mercato e sappiamo che nell'ambito delle memorie chi fa da padrone sono Samsung, Micron e Inix che sono i maggiori produttori e soprattutto produttori effettivi. Quindi di per sé dovremmo avere una coesione tra tutte le aziende possibili, soprattutto ovviamente per i produttori di schede madri per poter attuare questo tipo di modifica. La forma, a mio dire, è veramente bruttissima, cioè nel senso nel contesto di un portatile andrebbe benissimo ma lascia veramente troppo vuota questa zona. Questo è un fotomontaggio, chiaramente non è la proposta finale, però sembrerebbe essere coeso a quello che è Project Zero di MSI che abbiamo visto nel precedente video. Per quanto riguarda i moduli dovremmo offrire capacità da 32, 48, 64 e 96 giga per singolo banco abbinate quindi poi a velocità di frequenza tra i 6.000 e gli 8.000 MHz. In questo slide del consorzio che si occupa delle certificazioni, la JEDEC, possiamo vedere alcuni dei punti che vengono risolti dalla presenza delle low power DDR5-CAMM2, cioè questo nuovo formato, che è più uno scioglilingua che altro. Diciamo che gli elementi principali sono riduzione appunto dei passaggi sulla scheda madre, maggiore riparabilità, maggiore possibilità di upgrade e in generale ci dovrebbe essere un supporto più ampio per tutto e soprattutto regolazioni rispettate per quanto riguarda l'Unione Europea. Ci sono alcuni problemi che ovviamente emergono dal sostituire le RAM precedenti con queste, come per esempio appunto il fatto che, di base, la dimensione di queste RAM è notevolmente maggiore in estensione su singolo banco e ovviamente lo stacking verticale andrà a prendere spazio in quella direzione. Però sembra che i problemi che vengono risolti siano appunto più importanti rispetto a quelli che si vengono a creare, quindi di per sé potrebbe vedere la luce. Qui abbiamo una prima immagine abbozzata di quello che sarebbe una DDR5 da desktop vista in termini di chip, connessioni e cose. Sicuramente uno dei problemi sarebbe il fatto che queste RAM vadano fissate con delle viti al posto del classico click-clack delle schede madri. E qui abbiamo tre possibili proposte per quanto riguarda i principali produttori con Aenix, Samsung e Micron. Ovviamente queste sono le densità proposte e tutto quello che si andrebbe a ottenere. Il progetto finale sarebbe quello di creare in realtà un singolo banco con a bordo tutte le memorie che comunichino direttamente su di quello e trasferiscano le informazioni al processore che le controllerà. Dalle enorme densità e conseguente capacità di queste nuove CAM-M2 potete capire che chiaramente l'obiettivo sarebbe di fare un singolo banco, soprattutto nell'ambito desktop, ed evitare di metterle appunto in stacking verticale. Però per quanto riguarda questo staremo a vedere. Ovviamente la cosa che, diciamo, mi preoccupa un po' di più è che con tutto questo processo di estetica delle build che stiamo vedendo, come per esempio con Project Zero, mi viene difficile pensare quale sarà il risultato estetico con questo tipo di memorie e se ovviamente tutto quanto varrà la candela. Staremo a vedere. Tra poco ci sarà il Computex e, piccola parentesi, noi di Modern Tech parteciperemo e ci sarà praticamente un video al giorno per almeno un paio di settimane, se non di più, a partire dai primi di giugno. L'uno o il due pubblichiamo i primi video. Sono molto gasato. Ovviamente, ragazzi, mi servirà tutto il vostro supporto in termini di commenti, like, interazioni, guardare video per intero per dimostrare che anche noi italiani possiamo fare un grande lavoro all'estero quando copriamo le fiere. Detto questo, ragazzi, si avvicina questa fiera e ovviamente iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sui prodotti che verranno presentati. Una delle handheld più attese in assoluto è chiaramente il refresh di Rogalai, che prenderà il nome di Rogalai X e di cui sono state liccate alcune informazioni importantissime da quella che sembra essere una presentazione fatta da Asus. Videocard ci riporta l'immagine, come potete vedere abbiamo una console che parte con un colore nero, molto simile a quello della MSI Claw, che si affianca alla vecchia Rogalai. Non ci sono differenze in termini di monitor, rimane sempre il 7 pollici Full HD 120Hz con 500 nit di luminosità e double vision, accompagnato da un processore Z1 Extreme, sembra non esserci la versione base. In termini di hardware ci sono delle modifiche importanti, abbiamo 1TB di SSD M.2, quindi anche sostituibile esattamente come la console precedente, di base, come formato unico, accompagnato da 24GB di DDR5 Low Power da 7500MHz. Entrambi questi aspetti dovrebbero migliorare quella che è la prestazione finale della console, ma soprattutto è venuta a mancare completamente l'SD, sparita del tutto, probabilmente per risolvere i problemi di surriscaldamento che abbiamo visto con questo mini PC. Aumenta anche leggermente il peso, circa 70 grammi in più. Allora, qui abbiamo un grafico ancora migliore, come potete vedere lato hardware di APU ed SOC, siamo esattamente agli stessi livelli di prima. Quello che cambia sono, sparisce l'XG Mobile, quindi non c'è più la connessione per quanto riguarda la scheda via esterna con un attacco proprietario, ma si passa direttamente alla USB 4 in modalità Type-C. Come ho detto prima, aumenta l'SSD e chiaramente ci sono anche dei miglioramenti per quanto riguarda la batteria che passa da 40Wh a 80Wh. E da ciò ne consegue un incremento del peso di 70 grammi, ma non delle dimensioni. Abbiamo uno 0.3 cm in meno e uno 0.5 cm in meno su altezza e larghezza. Il prezzo, ancora non si sa, dovrebbe uscire a giugno 2024. Vorrei sapere nei commenti cosa ne pensate di queste Endeld, se volete vedere dei contenuti o cose del genere, perché io personalmente le utilizzo quotidianamente e Steam Deck OLED per ora ha il mio cuore in assoluto. Avrei preferito vedere una Rogalai X con OLED, però al momento non sembra essere possibile, probabilmente si stanno tenendo questo grosso upgrade per quanto riguarda una possibile Rogalai 2, o come vorranno chiamarla. Comunque, l'erede e non un semplice upgrade o refresh. Peccato una carta persa, perché invece Valve se l'è giocata un po' meglio sotto questo punto di vista. AMD ha fatto un grosso favore ai suoi clienti che amino i titoli competitivi, o perlomeno un titolo competitivo, sto parlando di Counter-Strike 2, e la tecnologia implementata è il Radeon Anti-Lag 2, appunto, omonimo. Per quanto riguarda la nuova tecnologia di casa Radeon, ci sono dei miglioramenti significativi. Prima di tutto è cambiata proprio la concezione della tecnologia in sé, in quanto non c'è più un passaggio driver che poi si applica al gioco, ma direttamente la tecnologia sembra girare all'interno del motore del gioco stesso. Cosa che ovviamente può evitare tutti quei problemi che ci sono stati di VAC ban, specificatamente su Counter-Strike 2, con le prime versioni Anti-Lag e Anti-Lag Plus. La tecnologia è già disponibile nei menu di Counter-Strike, funziona in maniera molto simile all'NVIDIA Reflex. Qui abbiamo una rappresentazione di solo 8 millisecondi con 267 fps nella latenza di sistema, e qui abbiamo dei dati da parte di AMD stessa, quindi prendeteli anche con le pinze, per quanto riguarda i miglioramenti tra No Anti-Lag, Anti-Lag di prima versione e Anti-Lag 2. Avrei preferito vedere l'Anti-Lag Plus come paragone, ma ci accontentiamo di quello che abbiamo. Sicuramente è bello vedere anche la presenza dell'8700G qui sotto, come potete vedere ci sono 5 millisecondi di differenza tra l'Anti-Lag Plus e non averlo, circa 2 tra avere l'1 o il 2. Per quanto riguarda comunque l'implementazione di questa tecnologia, ci sono dei miglioramenti notevoli tra averlo disattivato e la nuova versione 2, anche rispetto alla precedente in diversi casi, come per esempio con la 7900G RE in 4K qui. L'altra cosa interessante ragazzi è che hanno esteso il supporto, infatti sono state incluse anche le Radeon 5000 oltre alle 6000 e alle 7000. E ovviamente, come abbiamo detto prima, l'8700G con la sua 780M, cosa che potrebbe dire che tutto ciò arrivi anche magari su Ally. Non so se avete mai sentito parlare di Antec, è un brand che si specializza più che altro in dissipazione, case e cose del genere, ma di recente sembra che abbiano voluto espandere un pochettino la propria line-up con una piccola console portatile, che in realtà sembra arrivare dal passato, in quanto ha la forma effettivamente di un qualcosa di moderno, ma come potete vedere integra un tastierino analogico direttamente sulla scocca con un piccolo monitor che si muove avanti e indietro per scoprirla. Veramente super carina questa Antec Core HS e Antec ci riporta che sarebbe prodotta da Ayaneo, che in questo momento ha una line-up veramente notevole di Endeld. Purtroppo abbiamo pochissime informazioni al riguardo, però ovviamente vi tengo aggiornati perché molto probabilmente sarà disponibile al Computex, quindi magari faccio un round-up, provo ad andare a cercare un po' di console quella e di provarle e parlarvene un pochettino. Magari facciamo insomma questo insieme di prodotti e vediamo quali sono i più interessanti, oltre a questi tre nomi canonici di Steam Deck, Rogue Allai e MSI Club. Per il resto ragazzi, per questo video è tutto. Ricordatevi di visitare il sito ogni giorno, che ci supportate e ci aiutate tantissimo a crescere. Voi siete stati su Modern Tech, noi ci vediamo al prossimo video. Salva, usa!